Va ora in onda, Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara, Penne. Sulla ricostruzione post-sisma si è indietro e per questo la prossima settimana sarò dal ministro dell'istruzione Bussetti che ha preso l'iniziativa per aprire un tavolo di settore. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marsilio. Ad Avezzano, per un incontro con i sindaci della Marsica, il governatore abruzzese ha così risposto alle domande di cronisti e amministratori sul post-sisma e la delicata fase di ricostruzione di comunità, luoghi ed edifici. Aspettiamo con ansia da qualche settimana, ha detto Marsilio, un decreto che consentirà il raddoppio della forza lavoro negli uffici tecnici. Abbiamo preparato un corposo pacchetto di emendamenti che abbiamo già fatto approvare dalla conferenza delle Regioni. Ora, al concluso, Roma deve fornirci concrete rassicurazioni operative, personali e fondi. Rilancio economico, ambiente, infrastrutture, agricoltura, sanità e tribunale sono solo alcune delle priorità sottoposte ieri ad Avezzano all'attenzione del presidente della Regione, Marsilio, in un incontro che si è svolto nella sala consigliare del Comune di Avezzano, su iniziativa del sindaco Gabriele De Angelis, alla presenza di numerosi primi cittadini della Marsica, del senatore Gaetano Quagliariello, dei consiglieri regionali Mario Quaglieri, Simone Angelosante e Giorgio Fedele, e per avviare una proficua collaborazione tra l'ente regione e comuni, affrontando tempestivamente le questioni prioritarie nell'interesse dei territori marsicani. Il nostro impegno, ha detto Marsilio, è quello di ascoltare i territori, perché l'ascolto ci arricchisce e ci offre un patrimonio di conoscenze. Sono qui aggiunto per stabilire insieme quali siano le priorità per la Marsica, per il tribunale. Ha concluso, nei prossimi giorni sarò a Roma in difesa della struttura giudiziaria. Ennesimo incidente agricolo in provincia di Teramo. Ieri pomeriggio, intorno alle 16, a Santa Lucia di Roseto, un contadino di 78enne del posto è stato travolto da una moto zappa. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri di Roseto, erano le 16, quando l'uomo ha fermato il suo trattore in cima alla strada decisamente in pendenza per poi scendere. In seguito è sceso ed ha alzato lo sportello posteriore che copre le frese, quando lo stesso sportello, a causa di un arretramento del trattolino lasciato evidentemente senza freni, gli è caduto con violenza su una gamba, provocandogli una fruttura scomposta di tibia e perone. Un'eccezionale e inspiegabile moria di Cozze si sta verificando nel mare dei Trabocchi, tra Tollo e Punta Cavalluccio nel comune di Rocca San Giovanni. A segnalarla, sulla base di una semplice osservazione dei fondali marini, sono i sub che frequentano un pezzo di ritorale di solito molto attrattivo per gli appassionati della pesca sportiva, uno specchio d'acqua normalmente invitante, ricco di specie ittiche come spigole, orate, polpi e saraghi. È una situazione anomala, mai accaduta prima in questo periodo dell'anno, racconta Massimo De Pascalis, sub che si tuffa spesso in quel tratto di mare. Non so spiegarmi perché, dice, so solo che qualche tempo fa c'è stata una moria di Pinna Nobilis, conosciuta come Nacchera di Mare, il più grande bivalve presente nel Mediterraneo, una supercozza che può arrivare anche a un metro di altezza. Si suppone che potrebbe esserci stato un contagio, ma è solo un'ipotesi. So, dice, che è in corso un'indagine dello zoo profilattico. Si parla di alga tossica, ma non so, aggiunge De Pascalis, in realtà a che punto siano arrivati gli accertamenti. Il fatto è che da tollo, punta cavalluccio, tratto di mare di una decina di chilometri da me molto battuto, la moria è generalizzata e aggredisce il primo anello della catena alimentare di diverse specie ittiche. La sensazione, dice ancora De Pascalis, è di essere di fronte a un ecosistema alterato con poco pesce in rapporto a quello che dovrebbe esserci in questo periodo primaverile, quando normalmente l'acqua si scalda fino a circa 15 gradi e il mare diventa più pescoso. Sì del Consiglio Comunale di Pescara, la nuova società di riscossione dei tributi comunali, l'Assemblea Civica ha approvato la delibera con 17 voti favorevoli. Il nuovo soggetto, commenta il Sindaco Alessandrini, rappresenta un'innovazione strategica per il Comune, soprattutto nel nuovo quadro di finanziamento degli enti locali, che sempre più devono autofinanziarsi, rendendo quindi indispensabile la realizzazione di un processo efficiente di tutte le fasi della raccolta e della coazione del ciclo dei tributi. La società permetterà inoltre di contrastare efficacemente l'evasione fiscale, perseguendo anche l'obiettivo perequativo di giustizia sociale e rendendo possibile la messa a regime in futuro della riduzione del carico fiscale pro capita, cioè a persona. Senza alcun voto contrario al Consiglio Comunale di Pescara, ha approvato la delibera con cui si libera l'area dell'ex filanda Gian Maria dal previsto palazzo che ne avrebbe definitivamente cancellato la memoria. L'area, in accordo con il costruttore, diventa comunale e pubblica e l'intento, con il voto del Consiglio, è quello di realizzarvi un centro di documentazione del lavoro delle donne nella storia di Pescara. Il lungomare all'altezza dei grandi alberghi, direzione nord-sud, la riviera al confine con Pescara, direzione sud-nord, la nazionale all'altezza del Saline, direzione nord-sud e la nazionale all'uscita dello svincolo della circonvallazione, direzione sud-nord, sono questi i punti della città di Montesilvano in cui l'amministrazione ha installato quattro tabelloni luminosi, i primi del territorio. I pannelli contengono messaggi variabili in materia di viabilità che verranno utilizzati anche per fornire informazioni ai cittadini di vario tipo. Giunge alla quinta edizione la toccante Via Crucis Vivente, cioè la sacra rappresentazione della Passione di Cristo che si tiene a Montesilvano. Sabato 13 aprile dalle 19 tornerà dunque l'appuntamento atteso dalla città per entrare nell'atmosfera pasquale. La messa in scena della Passione di Cristo, come sempre organizzata dall'associazione Vides Pescara Onlus, preseduta da Ivana Zuccarini, quest'anno toccherà zona Mazzocco, 15 attori del laboratorio teatrale, la Carriole affiancati da 40 figuranti in costumi d'epoca e dai corni. Siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo nuvoloso fino alle ore centrali, molto nuvoloso nel pomeriggio, cielo coperto nelle prime ore della sera e molto nuvoloso in tarda serata con temperature da 11 a 17 gradi e 20 deboli. E nelle zone interne cielo nuvoloso fino a metà mattino, pioggia dalla tarda mattinata a metà pomeriggio, temporale nel resto del pomeriggio, e cielo coperto in serata con temperature da 10 a 17 gradi e 20 da deboli a moderati. Il mare è previsto da quasi calmo a poco mosso. E con queste previsioni del tempo noi ci salutiamo. Da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, a voi tutti grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Grazie a tutti,